Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi una storia misteriosa e scioccante riguardante una donna scomparsa misteriosamente nel nulla. Parleremo di altre dimensioni perché questo racconto ha davvero dell'incredibile. Quindi io direi di cominciare subito e non perderci in ulteriori chiacchiere. Ci troviamo a Norwich in Connecticut e la protagonista del nostro racconto è una donna di nome Josefin Jurno. Dovete sapere che Josefin era una donna gentile, altruista, generosa, rispettata da tutti, ma allo stesso tempo era anche una persona molto introversa, riservata, che amava la solitudine. Non aveva hobby particolari, la cosa che più le piaceva fare era camminare. La signora Jurno ogni giorno verso sera al tramonto usciva di casa per fare delle lunghe passeggiate. solitamente si assentava per circa un'ora da casa e questo è un dettaglio che vi chiedo di tenere a mente perché poi sarà molto importante. E inoltre quando usciva non si allontanava mai dal suo quartiere. Josefin Jurno era una donna molto prudente e anche superstiziosa e proprio per questo motivo non si allontanava mai perché insomma non si fidava, preferiva passeggiare, ma restando comunque nelle vicinanze, restando comunque nel suo quartiere. Quindi immaginate benissimo tutti quanti lì la conoscevano, tutti quanti la vedevano passeggiare lì ogni sera, tutti i giorni. Da vicini, parenti e amici era conosciuta come la signora con l'ombrello, proprio perché ogni volta che usciva portava con sé un ombrello sempre aperto, anche se fuori non pioveva, anche se il tempo insomma non era brutto, non era chissà quanto brutto, Josefin usciva sempre con questo suo ombrello. Nel novembre del 1935 Josefin uscì di casa come faceva ogni sera. Quel giorno i suoi vicini non fecero molto caso a Josefin, insomma sì tutti quanti videro Josefin passeggiare nel quartiere, però non prestarono chissà quanto attenzione a lei, insomma erano abituati a vederla camminare, usciva ogni sera quindi nessuno presto a chissà quanta attenzione. Ma è proprio qui che inizia il nostro mistero, perché proprio quella sera Josefin uscì di casa senza fare più ritorno. Dovete sapere che Josefin aveva una famiglia, degli amici, dei parenti, quindi se anche avesse voluto intraprendere un viaggio avrebbe sicuramente avvertito i suoi parenti, la sua famiglia e i suoi amici. Insomma era una signora sì riservata ma aveva contatti con loro, gli sentiva ogni giorno, molti suoi amici la venivano a trovare ogni settimana, quindi se avesse effettivamente voluto anche solo allontanarsi da casa per qualche giorno avrebbe senza ombra di dubbio avvertito qualcuno. E inoltre quella sera del 1935 la signora Iurno fu vista sì a passeggiare nel quartiere, ma l'unica cosa che reggeva tra le mani era il suo ombrello. Se una persona ha intenzione di intraprendere un viaggio o di trasferirsi anche solo per qualche giorno a casa di un amico porta con sé più di un ombrello, magari un cambio, una borsetta, un sacchetto, una valigia e invece no, la signora Josefin fu vista esclusivamente con il suo ombrello tra le mani, anche perché i suoi documenti, gli effetti personali li aveva tutti quanti lasciati in casa, quindi molto strano. Era come se la signora Iurno fosse uscita e non avesse più fatto ritorno, ma non per sua volontà. Così quella sera non vedendola rientrare ovviamente i suoi parenti e i suoi amici, come anche gli stessi vicini, si allarmarono e decisero di rivolgersi alla polizia. Subito gli agenti cominciarono ad indagare e pensate un po', Josefin Iurno, questa signora, era così amata dal vicinato che addirittura furono organizzati proprio di gruppetti di persone che andarono ad aiutare la polizia nelle indagini. Tutti quanti volevano ritrovare Josefin Iurno sana e salva. Purtroppo però le ricerche e le indagini furono inconcludenti a causa della mancanza di prove, tracce o indizi e di qui le persone cominciarono anche a fare le prime ipotesi. Alcuni pensavano che la donna fosse effettivamente partita, però nessuno quasi riuscì a credere a questa versione, anche perché vi ho spiegato. La donna avrebbe potuto avvisare i suoi parenti, avrebbe anche potuto non farlo, ma comunque quella sera Josefin Iurno fu vista soltanto con il suo ombrello tra le mani, anche perché i vicini avrebbero notato se avesse avuto una valigia, visto che sarebbe stato un dettaglio che avrebbe assolutamente attirato la loro attenzione. E invece Josefin uscì solo con un ombrello, quindi non ha molto senso pensare ad una persona che vuole partire soltanto con un ombrello tra le mani, lasciando tra l'altro tutti gli effetti personali in casa. Altri invece cominciarono a pensare al peggio, cominciarono a temere che le fosse accaduto qualcosa di brutto, che qualche malvivente l'avesse rapita. Ma ancora una volta la polizia non riuscì a trovare nulla che potesse in un certo senso dare credibilità a tutti quei sospetti. Josefin Iurno sembrava essere scomparsa letteralmente nel nulla. Nel settembre del 1938, quindi tre anni dopo, accadde un evento misterioso e davvero, davvero inquietante. Perché la signora Iurno fu abbistata nuovamente mentre passeggiava nei pressi della casa di un suo vicino, come se niente fosse. La signora in quel momento stava ritornando a casa dopo tre anni come se niente fosse accaduto. Il vicino, che in quel momento si trovava fuori dalla sua abitazione, decise di chiamare subito i suoi familiari e i suoi amici, che dopo aver appreso la notizia decisero di precipitarsi a casa della donna. Quando arrivarono, immaginate la situazione. Non la vedevano da tre anni, quindi subito cominciarono a chiederle dove fosse andata, cosa le fosse accaduto, come mai si era assentata per tre lunghi anni. Tutti quanti erano in ansia, erano preoccupati. A parte la confusione di vederseli tutti quanti lì, perché Josefin non riusciva a capire come mai tutti quanti si erano precipitati a casa sua, non riusciva a capire come mai tutti quanti erano preoccupati e in ansia per lei. Quindi a parte la confusione, Josefin stava benissimo e tra l'altro non aveva nemmeno segni evidenti che magari potessero far pensare ad un'aggressione, ad un aggressore. Era tranquillissima e due dettagli in particolare inquietarono non poco i presenti quella sera. Dopo tre anni la donna era ritornata a casa con la stessa acconciatura e gli stessi abiti che aveva indossato proprio la sera del novembre del 1935, quando comunque poi è scomparsa. Sulla acconciatura magari uno può pensare, vabbè se la sarà rifatta, ma gli abiti ragazzi. Dopo tre anni una persona scompare e fa ritorno a casa con la stessissima acconciatura, con gli stessissimi abiti che non sembravano nemmeno logorati. La stessa Josefin Iurno dal punto di vista fisico, ecco, era come se gli anni per lei non fossero nemmeno passati. È molto strano questo dettaglio, perché se una persona a parte per tre anni va via, poi non penso che ritorna dopo tre anni con lo stesso vestito, non penso che il vestito dopo tre anni non sia nemmeno minimamente logorato. Era davvero molto strano. La cosa più strana era che Josefin non riusciva a capire la loro preoccupazione. Era come se per lei fosse trascorsa soltanto un'ora, non tre anni. E di qui alcuni cominciarono a pensare che la signora Josefin abbia inconsapevolmente quella sera del novembre del 1935 vargato un portale spazio dimensionale e che si sia ritrovata per qualche ragione in un'altra dimensione parallela in cui probabilmente il tempo scorre molto più lentamente rispetto alla nostra realtà. Comunque quella sera molti tentarono di farle delle domande, quando ad un certo punto una parente le chiese di raccontare effettivamente quello che aveva fatto. E così la signora Josefin rispose semplicemente che quella sera, per lei era ancora novembre del 1935, era semplicemente uscita ed era tornata un'ora dopo e proprio per questo motivo non riusciva a capire come mai tutti quanti erano così preoccupati ed allarmati per lei. Mentre parlava però Josefin notò che intorno a lei molte cose erano cambiate ma soprattutto invecchiate a partire dall'aspetto dei suoi vicini e anche la disposizione della sua casa. Molti oggetti non si trovavano più dove lei li aveva lasciati, anche la stessa disposizione dei mobili era diversa da come se la ricordava. Ma nonostante queste lampanti evidenze continuò a raccontare la sua versione con convinzione tra l'altro, disse che quella sera era uscita soltanto per un'ora. E qui vi chiedo, dove era finita Josefin? Come mai per lei era passata soltanto un'ora e per i suoi parenti e amici ben tre anni? Anche voi pensate ad una dimensione parallela in qualche modo raggiunta dalla donna inconsapevolmente mentre passeggiava? Insomma che cosa ne pensate? Come è possibile? Era come se il tempo fosse passato per tutti ma non per lei. E molti si sono chiesti, perché comunque la storia non finisce qui ragazzi, molti si sono chiesti, bene ok la signora Iurno inconsapevolmente è entrata in una dimensione parallela ma nel tempo che ha trascorso in questa dimensione parallela come mai non si è accorta di niente. Forse questa dimensione parallela aveva un aspetto identico alla nostra? Tutto quanto in questa dimensione era uguale alla realtà di Josefin? Come ve la spiegate questa cosa? Come ha fatto a non accorgersi di nulla? Alcuni amici consigliarono a Josefin di recarsi da un medico per fare degli accertamenti. E così Josefin accettò, si recò da un medico, che addirittura le propose un ricovero perché voleva studiare il suo caso in modo molto più approfondito. Ma la signora Josefin rifiutò sia il ricovero che le cure mediche. E una volta tornata a casa riprese la sua vita come se non fosse accaduto nulla, comprese le passeggiate, perché ogni sera, nonostante l'accaduto, usciva comunque a passeggiare al tramonto per un'ora nel suo quartiere. Nell'autunno di quello stesso anno, nel 1938, un vicino che era rimasto molto affascinato dalla storia di questa donna, decise di scattarle una foto proprio mentre Josefin passeggiava nel quartiere perché in qualche modo temeva che la donna potesse scomparire di nuovo. E c'è una foto, che è questa che vi sto mostrando, in cui si vede proprio la signora Josefin di spalle con il suo ombrello passeggiare per il quartiere. Quella sera, la sera in cui fu scattata la foto dal vicino, la signora Josefin era molto strana. Questo è un aspetto che inquietò molto i suoi vicini, perché vi ho detto all'inizio del video, la signora Josefin era sì riservata, ma anche molto generosa, simpatica, altruista. Ogni volta che usciva a fare queste passeggiate, se vedeva un vicino fuori dalla sua abitazione, si fermava a fare magari due chiacchiere o comunque salutava. E invece quella sera Josefin aveva un volto molto molto triste, era molto in ansia e non salutò nessuno. Sembrava avere uno sguardo perso nel vuoto e un'aria decisamente strana e misteriosa. Passato qualche mese molti si dimenticarono dell'accaduto, dimenticarono completamente la storia di Josefin miurno, mentre altri continuarono a raccontarla. Però, come se fosse fondamentalmente una storia di fantasia, alcuni la raccontavano persino come una barzelletta. Insomma, nessuno credeva alla versione di Josefin. Alcuni pensavano che la donna avesse qualche problema dal punto di vista mentale, che le impediva effettivamente di ricordare dove fosse andata per tre anni. Però altri dicono, una persona che va via per tre anni e poi ritorna così, come se nulla fosse, per niente invecchiata, con la stessa acconciatura, con gli stessi vestiti. Beh, è molto strano. E nel 1940, dopo cinque anni dalla sua scomparsa, perché lei era scomparsa appunto nel 1935, ora nel 1940, la signora Josefin miurno scomparve nuovamente, senza fare però questa volta mai più ritorno. Anche qui non avvertì nessuno, non portò nulla con sé. Infatti dopo mesi i suoi parenti trovarono tutti i suoi effetti personali in casa, non portò nessun abito, nessuna valigia, nessun ricambio, nulla di nulla, soldi, niente. Uscì una sera al tramonto, come faceva sempre, solo con il suo ombrello tra le mani e quella sera, ragazzi, non fece mai più ritorno. Di questa signora non si è saputo ovviamente più nulla, nessuno l'ha mai più vista, cosa alquanto strana e misteriosa, perché anche se una persona ha dei problemi dal punto di vista mentale, ormai insomma era una storia che si conosceva lì a Norwich. Quindi qualcuno l'avrebbe sicuramente avvistata, avrebbe avvertito la polizia, gli agenti, le autorità e invece era come se fosse proprio scomparsa totalmente nel nulla. Non ci fu anche questa volta nessuna traccia, nessun indizio, niente di niente. E adesso io chiedo a voi, dov'è finita la signora Iurno? In un'altra dimensione, per caso, in una dimensione parallela, perfettamente uguale alla realtà che viveva? Che cosa ne pensate di questa storia affascinante, ma allo stesso tempo anche inquietante, perché voi immaginatevi se realmente questa signora è inconsapevolmente piombata in un'altra dimensione. Deve essere stato anche per lei uno shock poi rendersene conto, visto che comunque non ha fatto più ritorno. Sta a voi adesso, farmi sapere cosa ne pensate. Commentate sotto al video, fatemi sapere tutto quello che volete. Insomma, io spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiati, vi auguro un buon proseguimento, vi mando un forte abbraccio e vi do appuntamento sempre qui al prossimo video.